Ultimo giorno del mese di giugno, io sono Loredana qui con voi su Notizie Non Click e per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Iniziamo con la notizia dell'ambiente, l'Europa durante l'ultima era glaciale circa 21.000 anni fa. Per gli eventi cultura e spettacolo Ortigia contemporanea è il primo festival internazionale d'arte contemporanea nella regione Sicilia. Scrivono a mercato, si legge futuro. Turismo, vacanze, ferie al mare, prezzi ancora su, calano gli italiani, più del 20% sono i rincari. Roma Città Arena, oltre 20.000 film al parco degli aquedotti. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna. Loredana